Mi dicono che sono un po' pochi, dimmi Berdutaposch, che è successo? Che è successo? Vieni qua, che è successo? Pensavo che volevi portare una bella cent'euro, che è successo? No, che è successo? Dimmi! Pubblicizzare le serate di domani con i dirotti su Cuba, con Simona Bencini e domenica con l'Orchestra della Balla. Quindi ringraziamenti all'amministrazione comunale, alla Prologo e all'FG Live. Grazie. Un applauso, benissimo, si ripetono le serate alla grande, ma adesso andiamo con la prossima canzone. La canzone che abbiamo un po' regalato alle tante persone che soffrono appunto di questo problema. Signore, soffre? Che soffre? Non lo so, di che soffre? Ancora devo parlare? Già soffre. Qua soffriamo tutti, non c'è problema. Stavo dicendo appunto per le tante persone che soffrono di questo problema, con la speranza che con la nostra canzone in parte si riesca appunto a risolvere questo problema, anche il suo, anche il signore, speriamo alla grande veramente. Signori, la canzone si intitola O Cosa Non Sa Isa. Ehi, qua come andiamo a guidonna? Come vanno le cose? Sicuro vanno buone, tutti quanti così dicono, poi non c'è problema. Maestro, appunto andiamo con O Cosa Non Sa Isa. Possiamo andare, vai, ci siamo, vai. Andiamo in davanti, ragazzi, vai. Allora, noi ci siamo, ma tutti quanti per le mani, forza. Vedete, promesso. Anche in fondo. Vediamo sempre che ci puoi scelta, non c'è problema. Un gioco in fondo.